Bu 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 TG Fisbio Benvenuti alla prima edizione del TG Fisbio del 2020 dedicata a Topolino 3345 A pagina 17 primo episodio di Double Duck Corto Circuito Elemento Zero Testi di Fausto Litigo con Tutti Vitaliano e disegni di Stefano Zanchi A pagina 53 Amelia Befana per forza Ci stava bene nocciola vabbè Testi di Gaia Righini e disegni di Carlo Limido A pagina 79 il coding a Paperopoli, Paperino e la riparazione ai blocchi Testi di Alessandro Sisti, disegni di Giampaolo Soldati A pagina 96 torna Pippo vs Nocciola Con i testi di Pietro Zemelo e disegni di Francesco Di Polito Che coppia ragazzi che coppia A pagina 111 Paperino e la casa armonica Testi di Marco Bosco, disegni di Roberta Micheli A pagina 119 Miau con gli occhi di un gatto Testi di Giorgio Salati e disegni di Enrico Faccini A pagina 133 Young Indiana Tales, il segreto del quadro, episodio 1 Testi di Brunone Sarda e disegni di Marco Palazzi Oh io un altro Young Donald Duck non lo reggo eh Dopo i suicidi di massa di lettori avvenuti in una giornata di Natale a causa dell'assenza del Nex del 3345 Torna il Nex del 3346 Secondo episodio di Double Duck, cortocircuito Nemici ovunque Un salto nel passato, delizia di cioccolato Pico de Papelis e la cura autostimante Paperino, macchinista velocista, probabilmente rota danese Secondo episodio Young Indiana Tales, l'ammuleto indiano E infine Zio Paperone e il Bricco del Coboldo E adesso passiamo la linea al nostro colonnello Fisbiacci per le previsioni meteo Benvenuti alle previsioni meteo di Paperopoli e non solo Cielo nuvoloso sulle zone di Vitaliano Stefano Zanchi per la prima storia di Double Duck Perché non sappiamo come andrà a finire Proseguendo abbiamo un venticello proveniente non si sa dove Dalle correnti aeree delle streghe per la storia di Amelia Befana per forza Proseguiamo con il coding a Paperopoli di Alessandro Sisti Parzialmente nuvoloso, soleggiato perché la storia potrebbe essere abbastanza carina E pieno sole per Pippo vs Nocciola Visto che la coppia a Zemelo di Polito ormai dà solo conferme positive Torniamo a disastri temporali grandinate Fulmini saette per la storia di Marco Bosto e Roberta Micheli Ma prevalentemente noi sappiamo già che i disegni faranno schifo Passiamo a Miao con gli occhi di un gatto Neve copiosa cade su Paperopoli Di solito piace ma anche non piace Parola ai lettori Concludiamo con Young Indiana Taze Con un parzialmente soleggiato nuvoloso In quanto essendo un primo episodio La calma è d'obbligo E dal centro meteo al coloniale Fisbiacce è tutto Appuntamento alle prossime previsioni del meteo Bene dal TC Fisbiacce è tutto Appuntamento alla prossima settimana Fisbiacce è tutto